Azioni pericolose, Fjordili, Aps, Fjordili, Aramu, Ampadu parla difficile, gestisce bene Perez, Aramu, Aramu dalla Juventus, alla Juventus torna a segnare, batte il cuore toro di Aramu, uno a uno, ma che gol! C'era andato vicino due volte, Aramu, l'ultimo gol a dicembre contro la Juventus, lui che è tifosissimo del Torino, la colpisce di nuovo con un sinistro bellissimo, super gol, luce per gli occhi, Aramu, uno a uno! Lavora benissimo il Venezia e il pallone, sembrava Ampadu essersi complicato la vita, invece tocco geniale di Tor Perez per preparare il diagonale perfetto di Aramu. Lascia andare la gamba, Szczesny, si tuffa ma non può arrivarci!